Come si? Can i ginen elfen? Temo che il mio tedesco non sia il massimo. Mi chiamo Gabriel Knight, sono uno scrittore americano. Che posso fare per lei, Mr. Knight? Faccio delle ricerche per un nuovo libro. E ho sentito dire che lei è un esperto in materia. Mi può dedicare un momento? Si accomodi, prego. Grazie. Posso farle qualche domanda? Ma certo. Grazie. Non le spiace se registro, vero? Perché dovrebbe. Allora lei è il responsabile dei mammiferi dello zoo? Esatto. Cosa bisogna fare per diventare come lei, Doc? Lo so che voi americani detestate i titoli, ma qui per la gente sono Herr Dr. Klingman. Herr Dr. comunque può bastare. Mi scusi. Mi sono laureato all'università di Heidelberg e mi occupo del comportamento animale. Affascinante. Mi pare di capire che le interessano i lupi in particolare. Sì, sono piuttosto famoso per le mie ricerche sui lupi. Sarà stato terribile scoprire che due dei suoi sono scappati. Per me è stato un colpo piuttosto duro. Che tipo di ricerche fa sui lupi, Herr Dr.? Studio il loro comportamento in società, qui e allo stato brado. E cosa mi può dire? Posso dirle che c'è una purezza in natura che all'animale uomo decisamente manca. Vale a dire? La vita, la riproduzione, la morte. In natura non accade mai niente per caso. Anche se talvolta non è piacevole, noi uomini lo abbiamo dimenticato. Lei pensa? Certo. Lei ha mai visto un leone maschio dire alla femmina mi dispiace, cara, ma sai, non me la sento di impegnarmi. La femmina scappa forse dalla tana lasciando i cuccioli al compagno solo per accoppiarsi con altri lupi. Le iene hanno forse bisogno dello psicanalista perché si sentono in colpa per quello che hanno fatto? Credo che abbia ragione. Scusi, temo di avere un po' esagerato. Assolutamente no. Gli altri scienziati condividono le sue opinioni? Quasi mai, no. Ma fortunatamente ho trovato qualcuno che riesce a capirmi. Ho parlato con uno dei suoi ragazzi, un... certo Greg, Greg. No, non c'è nessun Greg che lavora qui. Intende forse Thomas. Thomas, certo. Comunque è lui che mi ha detto di parlare con lei. Sa, mi chiedevo se potessi dare un'occhiata più da vicino ai lupi per le mie ricerche. Temo che non sia una cosa possibile. Lo zoo non fa esaminare i lupi a nessuno. Dobbiamo fare di tutto per proteggere la loro privacy. Accidenti. È un vero peccato. Ci tenevo così tanto. Le dispiace se per un po' parliamo dei lupi scomparsi? Lo ritiene importante per il suo libro? Oh, certo. Vede, i lupi sono i protagonisti del mio nuovo romanzo. E quello che è successo è piuttosto insolito, non trova? Direi proprio di sì. Molto bene. A essere sincero non ne so molto in merito, ma le dirò tutto quello che mi viene in mente. Grazie, molto gentile. Da quanto tempo sono scomparsi i lupi? Ormai saranno trascorsi circa due mesi. Dio. Da così tanto. La polizia non ha ancora trovato le tracce. O i peli, per meglio dire. Mi creda la sua opinione condivisa da tutta la popolazione tedesca. Crede che i lupi dello zoo siano i responsabili di quei delitti? Questo deve essere ancora provato. Se non sono stati loro, chi altro può essere stato? Lupi selvatici, forse? Sfortunatamente, gli esemplari di lupi selvatici sono pochi in Germania. La maggior parte è stata uccisa dai cacciatori molti anni fa. La maggior parte? Ne sono rimasti alcuni sulle Alpi, ma nelle vicinanze di città, grandi come Monaco, è piuttosto improbabile. Qualche altro suggerimento? Sono spiacente, ma temo di essere confuso tanto quanto lei, Mr. Knight. Ma quello che non capisco è perché i lupi, beh, sempre ammesso che sia colpa loro, dovrebbero attaccare gli esseri umani. I lupi sono dei predatori. Gran parte dei carnivori potenzialmente sono cannibali, ammesso che abbiano fame e ne abbiano l'opportunità. I lupi dello zoo sono cresciuti tra umani? Certo. E di conseguenza non hanno affatto paura di noi. Ma suppongo sia così. Con che criteri un lupo sceglie le sue vittime? Ha mai sentito del linguaggio della morte? No. Probabilmente sa che i lupi spesso scelgono come preda i giovani, i vecchi o i malati. Fino a poco tempo fa si credeva che fosse una specie di selezione naturale per la sopravvivenza del più forte. Ma ora alcuni di noi pensano che in effetti la cosa sia molto più complicata. Abbiamo osservato, ad esempio, i lupi mentre circondavano un alce malato. Non aveva più scampo, ma tuttavia si è alzata e con occhi minacciosi ha guardato i suoi killer. I lupi se ne sono andati. Oppure un toro in piena salute che è fuggito non appena avvertito la presenza dei lupi, rendendosi un bersaglio facile senza motivo. I ricercatori credono che esista una specie di linguaggio primitivo. Sono la morte, dice il lupo. Sei pronto per la tua fine? E la vittima con le sue azioni risponde Sì, sono pronto. Oppure no, non mi prenderai adesso. Che cosa accade se la preda non conosce il linguaggio della morte? Questo è un bel problema, in particolare per i lupi. Vede, quando questi si imbattono in animali domestici che non conoscono le regole del gioco, si sentono confusi. Cominciano il massacro e non sanno più quando fermarsi. Ecco perché gli allevatori hanno cacciato i lupi fino a provocarne l'estinzione in molte parti del mondo. Beh, questa è una cosa su cui bisognerebbe riflettere. Grazie per l'aiuto, dottore. È stato un piacere. Il mio nuovo registratore con due piastre. Non è una cattiva idea, ma è meglio che mi trovi un posto un po' appartato. Grazie. Grazie per l'aiuto. Grazie a tutti. 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 Thomas? Thomas? Ja, Thomas, passo. Sono il dottor Klingman. Fa esaminare i lupi a mister Knight. Yeah, ok, Herr Doctor. Mr. Knight. Abbia pazienza, ma stavo per andarmene. Oh, non c'è problema. Tornerò un'altra volta. Ecco, magari. Buona fortuna per il suo lavoro, Mr. Knight. Dopo di lei. Grazie. Grazie.